Gli highlights della prima giornata della settimana internazionale Goppi e Bartali 2018. Partenza come vuole la tradizione con la frazione in linea con avvio e conclusione a Gatteo. Subito dopo la partenza inizia una lungazione che caratterizzerà gran parte della gara. Sono protagonisti in tre. Lozon Pradock che difende i colori della EF Drapak. Drapak, Pascal Encore della Lotta nel Jambo e quindi Emil Dima della MS Tina. Guadagnano tre primi 35 secondi di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. L'ultimo passaggio a Longiano vede transitare in prima posizione Cradock che in virtù di un altro successo al Gran Premio della Montagna diventa leader della classifica riservata agli scalatori. L'ultima scesa di Longiano resiste tra un passivo del gruppo di due primi e 48 secondi. Ultimo Gran Premio della Montagna di giornata che era posto a 17 chilometri dalla conclusione. Gruppo che non è riuscito a chiudere sui due battistrada con Encore che va ad aggiudicarsi in uno spremio ristretto questa prima semitappa della settimana internazionale Coppie e Bartali davanti a Cradock. Il resto del gruppo a un minuto e sette secondi è regolato da Davide Ballerini che difende i colori dell'Androni Giocattoli Sidermec.